Vediamo come consegnare un compito direttamente nel corso Tutti i compiti sono segnalati con questa manina che regge un foglio Quindi vicino all'iconcina c'è il titolo del compito Clicchiamo sul titolo e ci troveremo nella pagina del compito Qui scorrendo alla fine troviamo il pulsante aggiungi consegna Clicco su aggiungi consegna e si apre la pagina per inserire il nostro compito eseguito Che può essere un testo online, in questo caso qui scriveremo un testo Oppure può essere un file o un'immagine da consegnare L'immagine la posso consegnare anche utilizzando questo testo online Qui c'è il pulsante per inserire un'immagine Quindi clicco sul pulsante se devo consegnare un'immagine Che avrò salvato sul mio desktop Quindi clicco su cerco carica immagine E vado a prendere un'immagine sul mio desktop Questo compito dovevo scattare una foto del mio percorso E poi inserirla nel compito o consegnarla via mail o su whatsapp Quindi se voglio inserirla nel compito Col cellulare scatterò una foto del mio percorso E poi andrò a caricarla nel compito Quindi tornando al compito Avevamo detto di caricare un'immagine Quindi clicco su carica un'immagine File, upload E su sfoglia E sul mio computer vado a cercare l'immagine del percorso Clicco su apri E poi clicco su carica questo file Qui posso anche metterci un nome tipo percorso E poi clicco su carica A questo punto l'immagine è stata caricata Quindi clicco su inserisci Ok Ed ecco l'immagine caricata all'interno Dello spazio dove posso digitare il testo online O inserire immagini Oppure la potevo caricare direttamente come file Cliccando su questo foglietto E ripetendo la stessa procedura E in questo caso veniva caricata qui Quindi posso scegliere O se caricarla dentro lo spazio del testo online Oppure se caricarla come file qui dentro Dopodiché salgo le modifiche E il mio compito è stato consegnato per la valutazione In questo modo appena l'insegnante lo riceverà Potrà dare una valutazione E io sarò avvisata via mail Che c'è stata anche la valutazione del mio compito Se voglio modificare posso modificare la consegna Oppure eliminarla E io sarò avvisato